Negli Stati Uniti c'è un giovane matematico che è considerato un portento, ed è tuttora uno dei più grandi matematici americani, Paul Roberts, lui è studente in un'università americana e sta scrivendo la tesi, sta preparando la tesi di dottorato, però non vuole andare nel Vietnam, allora c'era la moglie, pure Anna Roberts, era una hippie, queste qui che andavano cantando, tutte queste figure molto strane, sono vere, e viene a sapere che io sono l'amico di Ho Chi Minh, che a Ferrara c'è l'amico di Ho Chi Minh, non solo, ma che è uno specialista della sua matematica, e viene a Ferrara, e sta un anno e mezzo da noi, con la moglie Anna Roberts, imparano bene l'italiano, carissimi amici, grande matematico.